Amiche amici bianconeri, secondo contributo di giornata, ve lo avevo detto se ce l'avessi fatta sarei tornato e torno molto volentieri perché per l'ultima volta il titolo del contenuto di quest'oggi poi sarà mercato. Ci tengo a completare quello che è stato il percorso di questi mesi, di queste settimane, in merito purtroppo all'extracampo. Il contributo di questa mattina era dedicato alla scelta del presidente, volutamente chiamato il presidente, so perfettamente che è l'ex presidente come in alcuni hanno sottolineato, ma era doveroso il passaggio della contrapposizione tra la scelta della Juventus di perseguire la via del patteggiamento e la scelta di Andrea Agnelli di perseguire invece la via del processo. Fatto salvo, quel processo che si dovrebbe tenere il 15 di giugno, fatto salvo che lo stesso presidente Andrea Agnelli non arrivi anche lui stesso al patteggiamento perché in ogni caso non è una ipotesi da escludere così categoricamente, il tempo è ancora diciamo dalla sua per eventualmente andare in quella direzione. Ma io capisco l'ignoranza dilagante, purtroppo la disinformazione che è stata fatta in questi mesi ha abbeverato un popolo di pecore a cui piace non informarsi, non approfondire, non capire, ma piace sentirsi raccontare quello che vogliono che gli si racconti. Perché per tutti coloro i quali il tifo è una ragione di vita, quindi non è semplicemente una passione, è proprio una ragione di vita e quindi accecati da questa ragione di vita non sono interessati a documentarsi, a capire, soprattutto a capire se il sistema calcio, perché stiamo parlando di calcio, sia funzionante o meno. Per loro qualsiasi cosa nella direzione di una condanna, di una sentenza, di una penalizzazione verso la Juventus è un qualcosa di assolutamente giusto, è un qualcosa di corretto. Senza andare ad approfondire come sia scaturita tutta questa situazione. Chi vi parla chiaramente è di fede bianconera e quindi potrebbe essere tacciato di non essere obiettivo, ma voglio svestirmi dei panni del tifoso nella fattispecie. Voglio semplicemente analizzare tutto quello che è stato aberrante, detto più volte, ma ripeto non soltanto dal sottoscritto, ma da diversi giuristi che non sono annebbiati dal tifo, ma che nel racconto della loro professione hanno definito la sentenza che ha colpito la Juventus è tutto il quadro accusatorio, tutto il quadro di sviluppo di questo, chiamiamolo, processo, che poi in realtà processo non è stato, qualcosa di assolutamente non conforme al diritto e alla giustizia ordinaria. Poi sappiamo che la giustizia sportiva deve essere veloce, non certa, ce lo hanno raccontato in più salse. E quindi tutto quello che è nato ha portato ovviamente nella direzione di una Juventus che non ha potuto difendersi secondo i crismi della giustizia che tale deve così chiamarsi, secondo il diritto, ed è stata penalizzata per un qualcosa. Le plusvalenze che abbiamo raccontato più volte non essere assolutamente soggette a normativa, pertanto da domani si potrà tornare a fare plusvalenza a seconda di quello che deciderà eventualmente il procuratore federale della FIGC o la FIGC stessa, oppure non si potranno fare le plusvalenze, perché non c'è una norma che ci fa capire il limite laddove si possa arrivare a determinare il valore o meno di un calciatore. Quindi cosa è successo? Che ci hanno combinato dieci punti di penalizzazione che erano assolutamente anticostituzionali, la Juventus aveva fatto ricorso, aveva ottenuto la rivisitazione della sentenza, sentenza che è stata rivisitata secondo un principio, quello dell'articolo 4, che non poteva essere utilizzato fondamentalmente quando c'è un articolo, che è l'articolo 31, nella fattispecie che regolamentava ciò che era contestato alla Juventus, ma siccome c'era un obiettivo comune, scelta politica ovviamente, di condannare e colpire pesantemente un club, la Juventus, si è andata in quella direzione. E quando purtroppo ci si trova dinnanzi ad una situazione nella quale, nonostante le evidenze, nonostante tutto porti in una direzione di, non voglio dire di assoluzione, ma comunque di rivisitazione netta di ciò che era stata la prima, diciamo, sentenza, che poi non è prima sentenza, perché anche lì si era riaperto il caso su qualcosa che era stato chiuso, perché sono state inserite nuove intercettazioni. E quindi che cosa succede? Che ti rendi conto che nonostante le dichiarazioni fatte dalla presidenza, dal direttore generale, dalla proprietà di difendersi in tutte le sedi senza arroganza, ma per far valere la propria posizione, ti rendi conto che sei costretto ad alzare bandiera bianca, a fermarti e a fare valutazioni a 360 gradi diverse da quelle che noi tutti avremmo voluto, perché avremmo voluto una Juventus decisa al TAR per far saltare il sistema calcio. Mi è stato spiegato, e io vi riporto, perché chi è più dentro e chi capisce più del sottoscritto è giusto che mi spieghi, e io possa poi cercare di spiegare a voi, la situazione della Juventus. Ecco, la Juventus ha scelto di procedere in questa direzione perché si è arrivati a un punto dove si è capito che si sarebbe andato troppo per le lunghe, non vi erano certezze sul fatto che andando al TAR sarebbe andata come in tanti avete scritto, come in tanti ci siamo raccontati. E quindi per la Juventus era fondamentale chiudere questa nera, nerissima pagina in giustizia sportiva questa stagione e cominciare da subito a pensare e a riprogrammare una ripartenza, una rinascita. E così ha fatto, lo ha fatto attraverso il patteggiamento. Quel patteggiamento che tutti hanno definito come una missione di colpa erroneamente, perché c'è un comunicato chiaro che parla di come la Juventus è arrivata a questo patteggiamento avvalendosi dell'articolo 127 senza ammissione di colpa. Per cui la Juventus si piega al potere istituzionale che non le avrebbe consentito di risolvere la questione in tempi brevi, non le avrebbe consentito di uscirne come avrebbe voluto. E la Juventus ha scelto di venirne fuori quanto prima, racchiudere il tutto in questa stagione. Non è contenta di quello che è stato fatto, non lo siamo nessuno di noi. E io ieri in live con gli amici di quelli del martedì di Juventus, chiedo scusa, l'ho detto, è nonostante tutto un senso di liberazione, perché si chiude questa nerissima pagina di ingiustizia sportiva, nonostante l'ingiustizia, perlomeno da oggi possiamo tornare a pensare al campo. E quindi questa è l'ultima volta che cerco di spiegarvi e di spiegarlo a voi che siete riposi alla Juventus, perché è inutile stare a perdere tempo con chi non vuol capire, con chi non vuol sentire, con chi vuol sentire solo che la Juventus ruba, che la Juventus dovrebbe essere radiata, che la Juventus dovrebbe essere mandata in Serie B, che la Juventus doveva essere mandata in Serie B. E la cosa strana, vergognosa di tutta questa porcheria, è che prima andava bene la giustizia, perché aveva combinato i 10 punti di penalizzazione alla Juventus, oggi la giustizia non va più bene, perché la Juventus ha chiesto il patteggiamento alla FGC, è stato accordato dal Tributale federale nazionale della FGC, questo patteggiamento che costa ulteriori 718.240 euro alla Juventus, in aggiunta a quello che è la vera punizione, ovvero la non partecipazione alla prossima Champions League, la manco di svariate decine di milioni di euro per il club. Ricordatevi che ci si raccontava, ci raccontavano che il filone stipendi sarebbe stato quello che avrebbe distrutto la Juventus, molto più delle plus valenze, e invece va a finire in maniera diametramente opposta, e allora adesso la FGC ha da rifondare per tutti. Prima non lo era, adesso lo è, io l'ho detto, lo risottolino, è una pagina nerissima, il calcio italiano ne esce frantumato, cioè abbiamo fatto una figura di merda colossale dinnanzi al mondo sportivo intero che ci ha visti come veramente una vergogna. La vergogna non è perché la Juventus ha patteggiato, la vergogna è per come è stata gestita tutta questa questione. È vergognoso dall'inizio alla fine e dal presidente Gravina che si fa bello e si riempie la bocca con le parole e finalmente abbiamo riaggiustato il calcio, gli esce una grande vittoria per il calcio italiano. Io credo che la grande vittoria del calcio italiano sarà quando riformeremo e rifonderemo da zero tutta questa nefandezza, perché la FGC deve ripartire con delle riforme che possano consentire al calcio italiano di tornare in auge e non perché abbiamo delle squadre nei finali di Coppa, poi magari dal prossimo anno rivivremo ancora anni nefasti. Bisogna ripartire rifondando il calcio dalle basi e quindi lavorando sui settori giovanili, consentire alle squadre di poter lavorare partendo appunto da questi settori giovanili e di poter rielevare lo status, il livello di questo calcio che ha subito uno smacco davvero clamorosissimo. Bisogna lavorare anche per consentire che le infrastrutture possano essere tali, rese al livello di quelle che sono nella stragrande maggioranza dei principali campionati europei. E quindi la Juventus si dichiara non colpevole, patteggia per uscirne, per poter programmare da questo momento la ripartenza, la rinascita e poi chissà, come ho detto, bisogna stare attenti, bisogna avere ancora più delicatezza nell'operare perché abbiamo visto che in barba qualsiasi norma inesistente se ti vogliono far fuori lo fanno. Allora bisognerà muoversi con molta molta oculatezza, intelligenza, ma perlomeno da oggi possiamo cominciare a riprogrammare il futuro. E tornerò presto perché l'identikit del nuovo allenatore lo voglio condividere con voi. C'è un nome su tutti, quindi rimanete sintonizzati perché ne parleremo e ne discuteremo insieme. Io vi auguro un buon proseguimento e come sempre fino alla fine Forza Juve che non ha patteggiato perché è colpevole, ha patteggiato valendosi dell'articolo 127 senza ammissione di colpa. Così l'abbiamo chiusa e adesso pensiamo al futuro. Fino alla fine, ciao!